A Olginate in zona Capiate c'è l'isola di Babbo Natale, da un'idea dell'associazione l'isola della Stupidera insieme alla locale sezione degli Alpini e all'amministrazione comunale. È un'isola molto speciale perché è un'isola creata dai bambini per i bambini. In questo spazio noi accogliamo tutto l'anno i bambini a fare i compiti e a giocare insieme a noi. Ci sembrava bello poter creare uno spazio buono anche per questo tempo speciale di attesa del Natale dove grandi e piccoli possono condividere questo tempo bello e magico. Nell'isola di Babbo Natale ci sono tanti laboratori e tanti momenti di condivisione, di letture di Natale, di preparazione dei biscotti. Siamo aiutati dalle associazioni del territorio, in particolare i nostri amici alpini che non ci abbandonano mai e siamo dentro all'iniziativa Prendiamoci Cura di Noi. Questo spazio è uno spazio che accoglie davvero tutti, all'altezza di tutti e siamo molto contenti di spalancarlo oggi e di chiudere la prossima domenica per cui aspettiamo tutti anche durante la settimana per vivere questo tempo dell'isola di Babbo Natale dentro all'isola della Stupidera. Noi diamo una mano tutta la settimana a questa isola per realizzare questo sogno dei bambini e ricordiamo che domenica ci sarà la festa di Babbo Natale che si concluderà qui davanti a questo albero e speriamo che il tempo ce la mandi buona. Come ha detto il mio braccio destro, è proprio bello fare questa cosa per i bambini. Poi con l'isola Stupidera che hanno dei progetti molto validi ci troviamo molto bene. Vi aspettiamo fino a domenica 22 quando arriverà Babbo Natale e consegnerà i doni a grandi e piccini.